Era addetto al controllo ambientale ed ecologico del Parco Davalos di Pescara, invece passeggiava lungomare, andava a pesca con gli amici oppure trascorreva le sue giornate lavorative al videopoker o in agenzie di scommesse. Questa volta, protagonista dell'ennesima storia da iscrivere nel libro dei furbetti del cartellino, è un vigilo urbano di Pescara seguito per due mesi dagli uomini della Guardia di Finanza. Il 55enne maresciallo della Municipale timbrava il badge personale nel palazzetto dello Sport di Via Elettra o presso l'Aurum, contravvenendo alla disposizione di servizio che gli imponeva di timbrare presso la sede del comando della Polizia Municipale di Pescara e poi, lasciando la divisa d'ordinanza a casa, si dedicava ad altre attività. Secondo i tabulati di presenza, il maresciallo era sempre in servizio dal lunedì al sabato per l'intero turno lavorativo, ma, secondo le fiamme gialle, solo sulla carta. Il sottoufficiale, infatti, sempre stando alle indagini della Guardia di Finanza, durante tutto il periodo di monitoraggio, non avrebbe dedicato all'attività lavorativa neanche un'ora, pur avendo regolarmente indicato la propria presenza sul lavoro e percependo l'intero salario di 1.600 euro. Ieri, al termine delle indagini, i finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno notificato al maresciallo della Municipale Pescarese l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis. Per il vigilo urbano i reati contestati sono truffa pluriaggravata per essere commesse in danno di ente pubblico e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione.